Il brano che ascoltiamo ora è l'ultimo movimento dell'opera Oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns, composto nel 1858 in 11 giorni, giusto in tempo per essere eseguito la notte di Natale. Tollite Ostias, su testo in latino del Salmo 96, è un coro di giubilo dalla struttura tripartita ABA, con sezione centrale di carattere contrapuntistico. Tollite Ostias. Tollite Ostias, su testo in latino del Salmo 96, è un coro di giubilo dalla struttura tripartita ABA, Pogli te ospias, te adorate, Lomitum milatrio, Santo Eiu. Pogli te ospias, te adorate, Lomitum milatrio, Santo Eiu. Pogli te ospias, te adorate, Lomitum milatrio, Santo Eiu. Pogli te ospias, te adorate, Lomitum milatrio, Santo Eiu. Pogli te ospias, te adorate, 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 Pogli te ospias, te adorate,